Allora sì, noi felicissimi, abbiamo scoperto con nostro stupore che da indice Istat, valutando i dati del 2018-2019, Montelabate è risultato il comune più giovane di tutta la regione Marche, un'età media di 41 anni. Da deriva, secondo noi, deriva sicuramente dal fatto che ci sono tante famiglie giovani nelle nuove zone abitative che possono trovarsi ad Apsella, Montelabate e Osteria Nuova e sicuramente anche dal fatto che abbiamo tantissime famiglie emigrate da altri paesi che hanno scelto Montelabate come luogo per costruire la loro famiglia ed educare i loro figli. Anche i dati infatti delle nascite ci supportano su questa teoria perché abbiamo comunque una media di 70 nascite annuali, quindi tutto sommato, visto che oggi i figli non li fa nessuno, noi siamo comunque contenti. È un flusso un po' migratorio perché a volte abbiamo una curva altalenante di entrate e di uscite da questo comune. Chiaramente è tutto molto collegato al lavoro perché noi avendo la zona industriale, chiaramente quando il lavoro c'è ed è abbondante richiama più persone. Prima dell'emergenza sanitaria sicuramente le cose stavano migliorando, adesso siamo un po' fermi con questa cosa, noi speriamo che comunque si riprenderà il più presto. Un dato come ha sottolineato relativo a 2018-2019, quindi prima della pandemia, un connubio comunque che vuol dire la gente viene qua a vivere a Montelabate, si trova bene e fa famiglia. Sì, perché comunque questo comune che nessuno magari conosce, a volte viene anche dimenticato, è un comune situato sulle colline, quindi dove c'è comunque l'aria fresca, vicino al mare perché in 20 minuti si è al mare, vicino ai divertimenti che possono offrire la Romagna perché a 20 minuti siamo già a Cattolica e quindi siamo già in Romagna, quindi è un comune che offre sicuramente un stile di vita buono e con poco tempo si riesce ad arrivare ovunque, anche in montagna, magari in Carpegna, per andare sulla neve.